Il perennio Giuseppe Conte aggiorna il quadro del provvedimento governativo per contenere l'emergenza. Italia tutta in zona protetta, non ci saranno più singole zone rosse, ma per tutti gli spostamenti saranno possibili solo per necessità, per lavoro, per motivi sanitari. E poi, dice ancora Conte, divieto di aggregazione, sono norme più stringenti per tutelare la salute di tutti i cittadini. 1.977.000 sono i contagi in tutta Italia. Il presidente Conte ora chiude la conferenza stampa, durata più di due ore. Ha ufficializzato il decreto scuole chiuse fino al 3 aprile di ogni ordine e grado in tutta Italia. Ma non solo, anche campionato di calcio chiuso fino al 3 aprile e persino bar, ristoranti da domani in tutta Italia saranno chiusi dalle 18 in poi. E poi ancora l'appello, ancora una volta, sempre più forte, restate a casa, solo così possiamo contenere il virus.